E' FUGA DAL LOCALLE No, io quello l'ho fatto In FUGA DAL LOCALLE mette al sicuro tutto il bottino e fuggì entro 30 secondi dall'arrivo del furgone Che non è il furgone, che è l'aereo Perché non è il cottero Vabbè, chi se ne fotte? Dobbiamo far questo, raga No, non c'è, non è questo, FUGA DAL LOCALLE non è questa qua, la FUGA DAL LOCALLE Un cappuccino grazie si chiama Eh, non è questo Vabbè, raga, appena... Ah, FUGA DAL LOCALLE è quella in mezzo alla strada Ah, va bene, sì, sì, ok, ok Devo portarci via tutto, eh Ah, è, questa è quella Questa è quella che McBadass ci va a fare Gli diamo uno schiaffo morale, ragazzi Quanti borsoni ci sono Troviamoci, grazie Allora, mettiamoli tutti in mezzo, raga Eh, sì, più in mezzo di così Non lo so che vuole La mettiamo sopra... aspetta, la metto sopra al van Va bene, lì sopra Eh, dovremmo... Allora, prima di tutto Una vostra besta In mano Allora, io penso delle ammo qua E poi ti ho bazzucato sulla folla Allora, è già spawnato un bulldozer Io non credo che questa sia La soluzione migliore ai nostri problemi È di lasciare lì in mezzo E ringrazio chiunque mi abbia tirato Una buzzucata addosso Che cazzo ti mira con la balestra? Ho shottato il dozer Mamma mia Intanto c'è la mia ragazza che istica A fare le live per i soldi Ottimo, ottimo Ma hai ragione Ma quei malati russi te li danno tanti i soldi Ah, ecco Ha ragione Meglio sempre della mia ragazza Che mi istica Invece a lavorare di più in ufficio Per fare i soldi Ah, cazzo di bloccare Quindi è meglio fare le live Dai Perché spogano? Beh, sul Twitch non c'è la monetizzazione Sì, c'è le donazioni E anche la monetizzazione Da quello che serve Le pubblicità Sì, c'è la pubblicità Ma non c'è la pubblicità Prima di i po' Dicera Dai, spacciamoci tutti per russi E facciamo live Twitch Ah voglia Dovemmo vedere dove cazzo arriva sto fulgore Ah, siamo un po' allo scoperto Non so se avete notato Noo Cazzo Madonna Madonna Arrivo, 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 arrivo Raganna sta su Un minuto ragazzi A voglia Eh, capito Ma dobbiamo vedere dove arriva Ragazzi Ci cado Abbiamo un altro dozer Ci cado anch'io Sì Ma siamo in mezzo Tipo al mondo Cioè, ragazzi Eh, lo so Ragazzi Vi l'avevo detto che secondo me Ma qui spawn Non era la soluzione migliore Vai gentilmente a casa Grazie Fritz Dimmi Aia, aia C'è pochissima vita Veloce Mi tiro solo io Tanto sto in canto del cigno Sto in canto del cigno E adesso mi sfogo No, mettere subito Metto il kit qua ragazzi Eh, sono grigio raga Ahia No, 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 no Vado a prendere, vado a prendere Sono morto, sono morto ragazzi Alzate frizzo Il furgone De la parte opposta Sono a terra Medica C'è stato medica No, no, non ce la facciamo per la CM Ci cado, ci cado, ci cado Chi è che hai il medico? Ragazzi, io li toccano l'emozio Aia Sono morto, sono morto Sono andato a prendere Alla lato a destra, Frizz Ho piazzato un medikit qua, ragazzi Eh, eh, c'è un culo Lui, ok, buttalo giù subito Tutti a terra, a terra Mettilo, mettilo, mettilo Sono a terra e sono grigio Dai, copriti Dai, 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 dai Ok Uff, per un soffio Ma vaffanculo, pure il denaro Tra un po' diventano anch'io grigio Non vedo una sega Eh, infatti sono grigio No Sono io, sono io Porca tronca Ok Ma le fughe sono casuali? Sì, dipende Tipo questa Oh, ce l'ho fatto In che missioni c'è questa? Ragazzi, ho trovato una posizione Che mi permette di rubare qualche borsa Sì, c'è un bulldog Sono grigio Venga a metterti un medikit Stiamo registrando Per chiunque Sì, sì Non posso mettere il kit Io lo fidi, ragazzi Yuki No, non lì, non lì, non lì Qua, 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 qua No No, eh, dai però Ciao, Anna Stiamo registrando una fuga Dal locale Super spinta Ci hanno rubato una borsa Eh, c'è un Dozenf Neron Ma io lo volevo bianco Occhio al cloaker Sì, mi raccomando Vai, su, su, su E' so grigio Ma dai Ragazzi, ragazzi Sono a terra Oh, sono tutti i cartieri No, no, no Eh, dai Vedete, ragazzi Ragazzi, abbiamo un minuto Vada a prendere, Arlo Ragazzi, sono a terra Arriva, hai venti secondi Arriva C'è l'ultima borsa Eh, io c'ho una Ok, ok, ok Eccomi Queste due non le prendiamo Eh, abbiamo un minuto Ok, ragazzi A me mi butteranno sicuramente a terra Però accanto del cigno Sì, che ho Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando No, no Ho la borsa a terra Tiratemi su Che è fatta Sono arrivato Oh, ho preso le altre due Vedete aiutare Via, via Mi ha scettato Ah, ce ne abbiamo altre Ma porco No, raga Via, via Andiamo Vai, vai, vai L'ultima, l'ultima, raga Dai Eh, eh Chi la va a prendere? Io Ci vado Abbiamo Yukio laggiù Io non schivo Vai, vai, va Te ne aiuto Ok Ok Io sono morto E sono in canto del cigno Ok, ce l'abbiamo Sono grigio No Vedi, prendi me Veloce 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 Vai Via, 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 via Andata 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 Yukio 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 Ok Dai Grandissimi ragazzi Grandissimi Questo qua Questo è uno schiaffo morale A general Ragazzi Che salutiamo Che ci segue sempre Sì Bastardo Che state facendo Stavamo facendo Fuga dal caffè Ah Provo, galisse Tutti Un bel po' 8 erano Fammi vedere O 7 Erano 10 borsoni Minchia Che cosa avete fatto? Spia Che cosa? No È Night Hai anche regalato 10 borsoni Per un volo Di 1.892 4.992 Sono rimasti vivi Sì Ma l'ultimo Un anno Secondo Ma è come Giusto che sia Questa cosa È una Fuga Che facciamo A posta Grazie Dell'esperienza Sempre Gratito Ah beh Guarda 4.000 Poi C'è Sciali Va poi Ragazzi Allora Io Faccio Un miliardesimo Di livello Dai Salutiamo Tutti Quanti Anche oggi La nostra missione Guidiana È stata fatta Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione